Ciao, sono Woody ToneTube e benvenuti nel mio studio. Oggi ascoltiamo questo pedale, il David di Dofix. Prima di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, fare like ai video se vi piacciono, spuntate la campanellina in modo da ricevere una notifica ogni volta che è un video e se vi va venite a trovarmi anche su Instagram Uri Baranes Guitar Studio. Cominciamo col brano d'apertura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il David è il distorsore di casa Dofix, un pedale artigianale basato su un circuito originale. Da un punto di vista grafico è facile capire che si chiama David, c'è impressa l'immagine David di Michelangelo. Qua intorno, non so se riuscite a vederlo, c'è un LED che si illumina non appena il pedale viene collegato alla corrente. Quindi in pratica lo vediamo sempre, anche nel buio più totale. Lo switch è through bypass e abbiamo i classici tre controlli, volume, gain e gas. Gas è una parola di eletto fiorentino che significa più, in pratica un tono. Da un punto di vista sonoro il pedale offre tre suoni. Con il potenziometro del gain da 0 fino a ore 12 abbiamo un distorsore. Da 12 fino a quadri fine corsa abbiamo un distorsore più fuzz e con tutti i controlli al massimo abbiamo anche un beat crusher. Quindi tre suoni, distorsore, beat crusher e distorsore più fuzz. Ovviamente dovete stare attenti quando aprite tutto perché il pedale spara parecchio. Comunque adesso passiamo alla sezione del looper e conosciamo meglio questo David di Dofix. Grazie a tutti. 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 questo david a me è piaciuto molto in particolar modo la pasta sonora molto rock, hard rock insomma l'avete capito dal bronzo di apertura e il fatto di avere un fuzz metto al distorsore offre un ulteriore possibilità espressiva se cercate un distorsore diverso dal solito artigianale made in italy con la possibilità appunto di un fuzz e di un beatcrush vi consiglio di farvi un giro sul david di dofix per oggi è tutto spero che questo video vi sia piaciuto se sì fate like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con altre demo ciao buone cose